Grazie a tutti. Queste masse d'aria si sposteranno attraverso il Mediterraneo causando venti di maestrale sul versante tirrenico e bora e grecale su quello adriatico. L'arrivo della neve coinvolgerà diverse regioni, in particolare Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e parte della Liguria, con un elevato rischio di disagi nel traffico veicolare su vasta scala. Le città maggiormente colpite includono Torino, Cuneo, Alessandria, Biella, Novara, Milano, Pavia, Varese, Como, Bergamo, Piacenza e Parma. Inoltre in montagna si prevede una copiosa nevicata con accumuli significativi sulle Alpi che raggiungeranno anche i 100-150 cm di neve fresca. Grazie a tutti.